La stampante contiene quattro cartucce, nero, ciano, magenta, giallo, che ruotano attorno ad un fotoconduttore, creando l'immagine sul foglio. Per cominciare, togli queste due viti, in questa posizione. Togli, il fianchetto bianco. Adesso, sfila il cilindro di sviluppo, con le sue due boccole bianche. Attento a non perdere l'ingranaggio del rullo. E questo piccolo feltro. Svita le due viti, e togli la lama metallica. Pulisci tutto il toner vecchio, rimasto nella cartuccia. Se hai una cappa aspirante e aria compressa, è meglio. Oppure si può usare un aspiratore. Altrimenti, pulisci la cartuccia il meglio possibile, all'aperto. Il cilindro di sviluppo, si può pulire molto delicatamente con un panno soffice, e alcol isopropilico, che è un tipo di alcol a veloce evaporazione, che non lascia residui. Pulisci, la lama metallica. Potrebbe esserci del toner incrostato, che causerebbe problemi di stampa. In questa zona, si può mettere un sigillo. Ma se intendi utilizzare la cartuccia per la tua stampante, non è necessario. Versa il toner, in questo modo. Ora puoi rimontare la cartuccia. Rimetti la lama metallica. Reinserisci il cilindro di sviluppo. E il suo fianchetto laterale, con le sue due viti. Questa lama di metallo, deve essere regolata. Altrimenti potrebbe causare copie troppo chiare, oppure con fondi scuri. Per finire, nella cartuccia c'è un chip contacopie, che va sostituito. Per bloccare il chip contacopie, metti una goccia di colla. La ricarica, è completata. Per stampare una pagina di prova. Tenere premuto, questo tasto, per 3 secondi. Difetti ripetitivi, della stampante HPCP 1025. I difetti ripetitivi, sono quei difetti che si ripetono sul foglio, a distanze regolari.